Lo so, lo so, YouTube te lo ricordavi molto diverso, ti ricordavi i bei tempi di quando caricavo i gameplay, di quando ridevi, di quando mettevi il mi piace, di quando condividevi con altri amici il gameplay che avevo prodotto. Mi dispiace, ma penso che le cose siano particolarmente cambiate. Allora, copyright, il Parlamento europeo approva la direttiva di riforma del diritto d'autore. Il via libera dell'Aula di Strasburgo è passato con 348 sì, 274 no e 36 astenuti. Per chi non lo sapesse, l'ombra del tanto temuto articolo 13 a quanto pare si è concretizzata in queste ore. Molto brevemente, adesso si dà più potere, utilizziamo questo termine, per quanto riguarda i diritti d'autore. Si è cercato di tutelarli maggiormente e le grandi piattaforme, i social, in particolar modo tipo Facebook, ma facciamo un esempio di YouTube, saranno colpite maggiormente, perché su YouTube fondamentalmente si caricano, spesso e volentieri dei contenuti che non sono tuoi. Il gameplay del gioco, l'immagine, il video, l'effetto sonoro, sono tutte cose ormai coperte a quanto pare da copyright e quindi di conseguenza un canale di gaming, se non ha tutte le concessioni e quindi i diritti che compongono il gioco stesso, non lo può pubblicare, perché altrimenti YouTube passa i guai in prima persona e poi ovviamente il tutto ricade come una specie di ragnatela su tutti i vari creatori di contenuti. Il che, secondo me, causerà una specie di paralisi, a meno che YouTube in qualche modo non produrrà una specie di anticorpo, comunque vedremo la direttiva nei prossimi giorni, nelle prossime ore, nei prossimi minuti, cosa succederà. Perché lo schermo nero? Perché, come ho detto, io, tra virgolette, ho paura a caricare dei contenuti che non sono miei, mentre se mettete lo schermo nero e parlate, con il microfono acceso non ci sono problemi. Se avete la webcam, io non uso la webcam, e quindi per questo motivo c'è lo schermo nero, altrimenti il futuro sarà pressoché così. Tu accendi il microfono, accendi la webcam, parli e dici, allora ragazzi, oggi ho fatto il gameplay di questo gioco, mi sono divertito tanto, ho fatto un paio di kill, tutto molto bello, sono stato il primo in classifica, però non posso mostrarvi nulla perché quel gameplay è protetto da copyright. Beh, diciamo che le persone perdono anche interesse verso, prima di tutto, il tuo canale e anche verso la piattaforma, il che praticamente manda in rovina il mercato videoludico, ma non solo questo mercato qui. È tutta una catena, perché su YouTube ci lavorano tante persone, non è solo il creatore di contenuti, basti pensare magari a coloro che vanno a montare i video ai canali grandi, ma per fare un esempio, i canali più grandi, come saprete, hanno le persone che montano i video, ci mettono gli effetti, la risata, il rumore simpatico e quindi sono persone che lavorano. Da questo momento, a quanto pare, si bloccherà tutto quanto. Io sono d'accordo nel regolamentare i diritti d'autore, però non possiamo salvarne 10 per ammazzarne 100, non so se il concetto è chiaro, serve un compromesso. E io, ripeto ancora una volta, non so da qui a X, dove la X indica un lasso temporale indefinito. Cosa succederà? Il canale o i canali verranno chiusi? Si dovranno reinventare? Dovranno cambiare completamente il loro format? Dovranno emigrare su altre piattaforme dove questo effetto non si sente? Cioè, cosa succede? Vogliamo fare... è una giungla? Questa è una giungla. È un far west. Questo è il vero far west. Diventerà questo il vero far west. Ovviamente le persone che hanno milioni di seguaci, secondo me, risentiranno di meno di questo articolo, di questa direttiva. Chiamatela come volete, non mi interessa. Mentre tutti quei piccoli creatori di contenuti, che magari fanno veramente fatica ad arrivare a fine mese, verranno completamente bloccati. Perché tanto chi è grande rimane grande, ha già sicuramente il portafoglio bello pieno, mentre il ceto medio-basso verrà completamente investito. Verrà completamente investito da quest'onda anomala. Ripeto, e poi basta. Non lo so cosa succederà. Lo staremo a vedere. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Io, personalmente, sono anche arrabbiato quando sento persone dire questo qui stop al far west digitale. E magari quelle persone fanno parte di un gruppo politico che è il primo che sparge nel mondo di internet le fake news. Cioè, ragazzi, ma qui stiamo superando veramente l'assurdo. Quello dice il far west digitale, poi è lo stesso che magari pubblica le fake news. Scusa, veramente, sono allibito, sono costernato, sono amareggiato, sono indignato, sono incazzato, sono... Non lo so, veramente. Io volevo farlo breve questo video, anche perché io faccio altro sul mio canale, come potete ben vedere. Magari si è arrivato da nulla a sentire le mie parole, però sono arrabbiato. E mi fermo qui perché altrimenti il video potrebbe durare anche 3-4 ore, però non vi voglio annoiare ulteriormente. Grazie per l'attenzione, a questo punto mi piace o non mi piace, cambia ben poco. E forse noi ci vediamo alla prossima, non lo so però in che forma. Alla prossima.